Mater Sacra, ricordati di me. Dal 5 all'8 aprile la Murgia Materana diventa lo scenario di un evento di intensa spiritualità dedicato alla passione di Gesù. Suggestioni di luci e suoni, giovedì 5 e domenica 8, dalle ore 20 alle ore 21 e 30. Rappresentazione teatrale Mater Sacra, venerdì 6 ore 21 e 30 e sabato 7 ore 20 e 30 e 21 e 30. Per informazioni 0835 31 42 44 0835 33 00 27 oppure cerca Mater Sacra su Facebook.